Sì, capito. Non toterra tu lo spero. Questa volta si parte. Io preferisco. Vai, vai a levare. Levate mille mani un secondo. Sopra. Sopra, eh? Sopra. Ci siamo, eh? Sopra, eh? Un'altra levata ancora. Trovato? Sì. Non potete lasciare, perché siamo mai spaccati i bracci. Sì. Questa corda qui serve per dare la frizione? Sì. Questo è un freno, certamente. La corda ha i suoi tre giri. E... Deve essere montata così. Se no, non viaggia. Non funziona. Se si è avvenuta rovescia, non va. E poi dall'interno. Questa è l'esterno. In tutto e due. Allora, ci si leva la roba di torno. Questa... Guarda, te lo dico io. Lo dividi così. Questo va sotto perché è sotto. E questo va sopra perché è sopra. Così e così. Sì. Venti lì. Ah, così. Ok. Divisi. Ah... Mi serve aggiungere un altro padiglione per i bacchi da seta. Una per bollirli. Anche... Anche... Anche la minonna in carrozzina lo dice da questo. Manca solo qui. Scusate. Anche la minonna in carrozzina lo dice da si. Ah... Grazie.